Il sofferto ma meritato successo sul modesto Olbia non deve illudere nel primo tempo Bianchazzurri lunghi, senza ritmo e idee, leggermente meglio nella ripresa. Prima volta senza subire gol, quasi un evento ma prova tutt'altro che convincente. Si aspettano verifiche più probanti. Lo scontro diretto di Cesena in programma lunedì 8 novembre alle 21 a tutta l'area di un primo importante snodo nel cammino dei Bianchazzurri. Nelle ultime due gare una sola rete incassata, una notizia se pensiamo che finora i gol al passivo sono stati 17. Di certo il centrocampo a tre dà una maggiore protezione al reparto arretrato, cosa che avevamo auspicato a fine mercato. Ora Auteri dovrà dare continuità a modulo e interpreti e migliorare soprattutto la proposta di gioco. In questa direzione c'è parecchio da lavorare. Per puntare al primato a gennaio serviranno uno o due centrocampisti e un difensore, probabilmente anche un attaccante sacrificandone un paio in un reparto già super affollato. Nove elementi compreso l'infortunato Chiarella. Discreto il rientro di Galano che nelle precedenti sette gare aveva giocato per scelta tecnica appena tre minuti sul campo dell'Entella. Terza gara da titolare per il fantasista Foggiano. Prezioso in termini di spinta ed efficacia il contributo di Zappella subentrato a Memushai. Il suo ingresso ha dato vivacità ma stiamo parlando di un difensore. Il sinistro di Pompetti si conferma un fattore. Da un suo calcio d'angolo è scaturito a sei minuti dall'epilogo. Il gol vittoria di Mirko Drudi alla prima gioia con la maglia del Pescara. Tegola di Gennaro. Che sfortuna. Sullo 0-0 ha evitato il peggio in uscita bassa su De Marcus ma nello scontro si è procurato la frattura della clavicola. A proposito i registi avversari godono sempre di troppa libertà. Almeno due mesi di stop per il 28enne portiere Bencazzurro che sarà operato giovedì dal dottor Tavolieri. In questo primo scorcio con le sue parate di Gennaro è stato spesso decisivo. Il giovane sorrentino si è dimostrato assai affidabile ma sarà opportuno ingaggiare un altro portiere. Tra gli svincolati c'è il trentenne pescarese ma al momento non ancora contattato. Alessandro Iacobucci già alle dipendenze di Auteri per un breve periodo a Latina in B. Nella stagione 2013-2014 l'avventura del tecnico siciliano durò lo spazio di tre giornate. Al suo posto Roberto Breda che dopo una grande cavalcata perse la finalissima playoff col Cesena di Pierpaolo Bisoli.